Nagai, il più grande autore giapponese di cartone animati e di fumetti, è in mostra a Roma all'Istituto Giapponese di Cultura di Via Gramsci. Alcune tra le più belle tavole inedite di questo grande autore orientale si possono ammirare gratuitamente tutti i giorni fino al 13 maggio. L'esposizione intitolata Il mondo di Nagai Go è corredata da otto proiezioni di lungometraggio, alcuni in anteprima. Go Nagai intraprende la sua carriera fumettistica alla fine degli anni 60 ispirato dall'opera del grande Osamu Tetsuka. Nel 1972 crea Kati Honei, eroina poco conosciuta in Italia. Il grande successo tuttavia Nagai lo riscuote lo stesso anno con Mazinga Z, progenitore di una serie di personaggi noti in tutto il mondo. Il boom dell'animazione giapponese continua con il grande Mazinga nel 1974, Getta Robot nello stesso anno, Jigiro Vodacciaio del 1975 e Goldrein Pufferobo, sempre del 1975. E tanto successo risposto in Italia tre anni dopo. La prima idea che diete lo spunto a Go Nagai per i suoi enormi automi nasce da un ingorgo stradale nel bel mezzo del quale il fumettista immagina che dalla propria auto spuntino arti meccanici che gli consentano di risolvere il problema. Così nasce il mondo di Go Nagai. Ma Zinga Ma Zinga Ma Zinga Ma Zinga